ma voi ci credereste che a volte succedono delle cose che hanno dell'impossibile veniamo a noi prima due premesse la prima è dal 1998 che Newscamp pubblica tutte le anteprime tutti gli scoop del settore camper, caravan e campeggio ovviamente primo se lo sono davvero secondo noi non accettiamo esclusive perché l'abbiamo sempre detto offrire un'esclusiva significa che il marketing non funziona perché non ha studiato che non si offrono e d'altro canto è vero anche che chi le accetta significa che è un perdente perché è come sottolineare davanti a tutti non sono buono di acquisire notizie per favore vi prego datemene una ok? quindi messa lì questa è la prima seconda premessa siamo andati alla fiera di Torino a tutto campo ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato dicendo tutto quello che c'era a dire complimenti a Automoto Retro che è l'organizzatore e a Dassault Camp di quella parte d'Italia cioè Val d'Aosta Piemonte Liguria perché è riuscito a capire ciò che andava capito due anni fa e che loro unici l'hanno capito quindi complimenti perché vuol dire che c'erano un po' di cervelli e tutti i cervelli erano sul pezzo abbiamo capito dove bisogna andare a battere detto ciò avevamo pubblicato un video dicendo ah perché già che c'è a Torino non se ne fa una a Milano punto di domanda indicando anche una zona che era praticamente provincia di Milano Comovaresele ecco quella zona lì perché a Brescia già c'è i Bresciani Tomi Tomi cacchi cacchi ma quelli se la sono già fatta la fiera bene una bella fiera d'ottobre che non c'entra niente quindi con Italia Vacanze a Novegro che c'è che giustamente è la fiera di primavera bla 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 oh ma voi ci crederete cosa è successo incredibile ci chiama una nota e importante società che organizza eventi di cui non diremo il nome perché oh noi lo sappiamo che me ne importa a me di dirlo a voi no perché ci hanno chiesto in questo momento di non rilevarlo ma se io dico che è nota che è importante e che già opera nel settore io credo che qualcosa tra i Lombardi si sia già capito detto ciò Lombardi e diciamo Piemontesi lato Lago Maggiore e cosa succede che chiamano dicendo ma voi come avete saputo che noi stiamo organizzando una fiera del genere come? cioè noi io non sapevo niente l'abbiamo detto per dire perché perché era nella logica delle cose anzi ci aspettavamo che l'anno scorso ci fosse stata una fiera così cioè l'assurdo è che mentre Torino ha viaggiato giusto da questa parte sul lato Lombardo c'è qualcuno tranne i Bresciani che è lì che boh cioè come mai come mai questa era la domanda da farsi e questa è la domanda che abbiamo fatto ma noi non lo sapevamo e loro ci hanno detto no guarda noi abbiamo già individuato un quartiere fieristico abbiamo già un progetto adesso poi valuteremo con gli operatori del settore cosa fare come fare ma noi abbiamo già tutto pronto e anzi a breve usciranno anche con un comunicato a quanto pare incredibile oh giuro questa volta non è uno scoop questa volta è stato banalmente quando uno è sul pezzo cioè è ovvio che erano già due anni che stava a fare sta fiera a me cioè Milano quella zona c'è arrivava la chiunque per cui Torino ci sono arrivati la notizia è che in Lombardia qualcuno un'organizzazione fieristica si è svegliata vabbè è ora ora e non è uno scoop di newscast no 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 loro ci sono arrivati per i fatti loro ma di noi per logica vabbè e mo la cosa divertente sapete qual è? che qualcuno non ci crederà giuro io sono convinto che qualcuno non ci crederà a questa cosa ma penserà che sapete quelli che lavorano di paranoie dietrologi ah chissà com'era tutto ah attenda ciao alla prossima ciao